E ciao a tutti e ragazzi sono Keberoni e in questo nuovo video oggi siamo arrivati in un gioco che non avrei mai, 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 mai pensato di portare sul canale Allora, oggi sto facendo un po' di giri su Steam per vedere se c'era qualcosa di interessante da portare E ho visto che c'era Dark Souls 3 in sconto Allora ho detto, che fai non lo prendi Oggi, oggi siamo qui perché io ho fatto circa già un 20 minuti di gioco per conto mio Sono qui per farvi vedere quando io mi incazzi perché mentre facevo il gioco, quindi mentre mi approcciavo alle prime impressioni Mentre facevo le prime cose in Dark Souls, ragazzi io sono nabbo, scarsissimo, non so niente di questo gioco Avevo delle reazioni che mi sarebbe piaciuto molto registrare Quindi ho detto, ok mi fermo qui, ho fatto circa il primo boss che non è stato poi così difficile E altre due cavate ragazzi ma veramente praticamente nulla E ho detto, devo assolutamente portarlo sul canale perché ci sono alcuni momenti, alcune azioni che devo documentarli Non ce la faccio, quindi oggi siamo qui per giocare a Dark Souls 3 Allora, ovviamente non sono né un pro player, non so niente, non so nulla Sbaglierò migliori di cose, farò migliori di fail Non sono per nulla né minimamente bravo, non sono a questo gioco Allora, come potete vedere, vabbè penso che tutti quanti conosciamo Dark Souls Più o meno sappiamo com'è Ho fatto queste prime tre parti che sono veramente tipo quasi mezz'ora di gioco neanche E ora siamo nell'entrata del castello di Tizio Se mi prendo un caio di cui non mi ricordo il nome Io volevo farvi vedere che c'è una cosa che mi ha spaventato abbastanza La prima è quella roba lì enorme Una piperna grande 40 volte noi che mi ha ucciso tipo 4 o 5 volte Ma vabbè, questo è l'altro di discorso, allora qui c'è un oggetto segreto Allora, io devo andare avanti, non lo so, quindi non so neanche come monterò questo video Onestamente parlando Ahia, che male Perché non so che parti mettere Perché onestamente non è un gioco che avrei mai portato sul canale Però ci sono azioni di cui piacerebbe commentare Quindi, ahiaia, che male, chi l'aveva visto quel tipo lì? Dio dai, non è possibile Sono già praticamente morto Guarda quanti coltellini che c'ho Ma uno è sotto l'ascella, non vale, dai Ma questi non mi hanno preso quei due Vabbè Quindi mi sa che, tipo, giocherò, non so, tipo 2-3 ore E vi metterò le parti migliori Quindi sarà un video un po' diverso dal solito Spero vi piacere una roba del genere Oh, salve Ehi Vabbè Aspetta, 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 aspetta Vabbè, che male Io purtroppo, ragazzi, non uso il joypad Da Non lo uso davvero, davvero, mai Quindi Ho un controllo del joypad pessimo Ehi, 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 ehi Niente, io ho fatto due passi E ho già finito la posizione Va bene, ok Scendiamo con la scala Scendiamo con la scala Oh, che vuole Ma perché Perché Io adesso vorrei sapere Perché Cosa ti faceva sul tetto Eh, vabbè Capite perché devo portarlo Perché non è possibile Io che non ho mai giocato la razza usa Come, come faccio a fin Ma Qualcuno mi spieghi come si fa Nel senso Va bene Divertente Vai, riproviamo Teoricamente C'è quel tipo in pied Non so quale sia C'è un tipo che Quello che devo uccidere subito Tipo, devo prendere E correre in faccia E Devo Devo ucciderlo prima si trasformi, ragazzi Perché Se no, non ce la faccio Allora, recupero le anime Corri, 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 corri Non ho fatto in tempo Non ho mai fatto in tempo Non ho mai fatto in tempo Devo correre Scattare sul tipo là Ucciderlo prima che si trasformi Vai, 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 vai Ma non è vero Non è vero Non posso Vabbè, facciamo un giochino Che io me ne vado da qua, va Io posso andare Mentre in qui Ma perché Cos'è Ehi Salve Ma stiamo scherzando Cos'è questo Il pronuncetto Grande, anima, grazie Dove vado io ora Come faccio Dove Dove Aiuto No, no, no Non lo sto scherzando Porta sbagliata Porta sbagliatissima Ecco, ecco, ecco Scala, scala, scala Scendi, scendi, scendi Ok Ok Siamo scappati Per adesso Oh ma scusami Ma allora È un vizio Ma sì Mettiamo qualcun altro Tanto Ma ma Allora C'è messo Un abbraccio Troppo Salve No, dai Oh mio Dio Come lo affronto Quello Ma come Scusa È un idromuro Che sei veggente Non ho capito Come hai fatto a beccarmi Calma, calma Posso farcela Posso farcela Posso farcela Evidentemente Non posso farcela No Devo fare quel pezzo Allora Fatti chiari Amicizia lunga Io non ti voglio Far del male Ok, amico Non ti voglio Far del male Cazzo Che male Mi ha fatto L'ho detto io E non voglio Farti del male Non c'è molto Da dire Non voglio Farti del male Sal Ma Ma la lancia Quanto rincia Mi prende ancora No Beh Vabbè Gioca da solo Allora Che ti devo dire Oddio Santo Dammi Cos'hai da darmi Fai vedere un po' Armatura Il caudile di Lotrik Quanto lento sono In questa armatura Fai fighissima Quanto figa È bellissima Wow No Pure i cani Ci sono No raga Qui moro Ma morirò circa Una ventina di volte Cagnolino Pofi Hai visto Bravo Vieni Seguimi Seguimi Torri Bravissimo Credo Che male Fai faccio un botto Io non li faccio Alla lungo Sua squadra Fighissimo Perché non schiva Questi colpi Che fanno malissimo No Faccio troppi colpi Di fila Ok Moriamo Ma almeno imparo Quale come Da come Come ha fatto a scendere No 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 Bisinca Come ha fatto Da dove è sceso Da dove è arrivato Quel tipo Era sopra Prima Ma se io provassi Tipo a correre All'impazzata Perché tanto Qua ce ne trovo anni Se no Io provo a correre All'impazzata Però l'oggetto Lo prendo L'oggetto Lo prendo Prendilo Prendilo Forse l'oggetto Non andava Preso Ok Per rushare Devo prima Andare di qui E ragazzi Via Porca Porca La caduta Prego Mandamela Buona Mandamela Buona Mandamela Buona Mandamela Buona Ok Non siamo morti E c'è un bordello Di roba Cos'è Fermo 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 Ehi Non fare casino No Tu non mi hai visto Tu non mi hai visto Non mi hai visto veramente Ma ha visto 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 Scusi 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 Cribioforo Colombo Ma prendi A vita E' immortale Ma e vabbè Che sei un breakblade Dai Ma cos'è Non scherzo Questo E' un breakblade Sto tipo Però abbiamo scoperto Che posso fare Sto roba qua Quindi Molto probabilmente Ci daremo Da questa parte Ci buttiamo Giù Qui Quindi prendi Prendi la braccia Per il perfetto Corri amico Corri 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 Eh che casino Dai Su Belin Cosa Ma tu Ora devi Rompere No ti prego Dai dai Non siamo più In la tua area Non è più La tua area Di gioco Questa Cosa ho visto Raga Eh no 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 Una porta Una porta Ti prego Non ora Non ora Ti prego Non ora Ti prego Non ora Sono vicinissimo Una porta Una porta Una porta Una salvezza Una porta Una salvezza Una porta Una braccia Quella è una braccia Credo E' una lampadina Oh quella è una scala Ah no Ah quelli sono Tipo Si chiamano Shortcut Se non sbaglio Shortcut Che tipo Dal da sopra Manda giù Una scala E poi Senza Puoi far Tipo Lear dei percorsi Così via Dove andare Ah Guardaci Già parlato Due volte No ti prego Non fermi Da qua Fuori R Eh devi Qua non puoi andare avanti Dove E giù qua Giù qui Giù 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 Arrighi al portone E inizia la porta Questo Sì Tu vai Tu avvicinati al portone Ok Oh dai Scusami Ok Non è ok Per niente Capiamo un secondo Che mosse ha Oppure moriamo Dipende un po' Dai punti di vicenda Nel senso Ognuno fa un po' Quello che vuole In questo modo Diciamoci la verità Quindi posso anche morire In posto di capire Che mosse effettivamente Oh cavo Sarà un lunghi Basta Non c'è un bracere In mezzo Dai Riproviamoci Stavolta Mi raccomando Cerchiamo di capire Un po' Io ho l'arco Ah ah Io ho l'arco Non è un buon momento Brutare l'arco Oglia Che male Ma non C'è Allora Onestamente Parlando Cristoforo Colombo Che gioco di merda Oh Cristo Ma praticamente Devo solo schivare Finchè non trovo Il momento giusto Per attaccare Io Scherzavo È uno scherzetto Ma dai Ma come si fa Regà Ma è difficilissimo Porca puttana Quanto è difficile Tanto non cambia il cazzo Non cambia veramente Non cambia niente Ma nu C'è Due colpi Mi ha fatto Mi ha Distrutto Che 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 Quanto fa Incazzare Sta cosa E niente Mi ha Rastrellato Su Come se non fosse Nulla Bene Basta 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 Mi sto Mi sto Incazzando Tanto E non è facile Non è facile Quindi Io direi Che per oggi Può anche essere tutto Io vi incazzo Tantissimo Ci ho messo Un'eternità di tempo Un'ora e cinquanta Un'ora e cinquanta minuti Un'ora e cinquanta minuti Sono fermo qui Perché non riesco a battere boss Ma almeno so arrivarcela al boss Il che non è poco Non è poco Vi dimmi i commenti Se vorreste altri video di questo tipo Non porterò mai la serie sulla star source Ragazzi perché non ho le competenze di conoscenza Non ho nulla sulla star source Lo faccio solo perché è divertente Vedermi a quanto far sclerare Vedermi Vedere cose nuove in questo gioco Quindi spero che questo vi sia giusto Vi ricordate un like E un commento Se così fosse stato Ci vediamo domani Con un nuovo video Ciao